E vorrei che ascoltassimo insieme quello che ha dichiarato sabato il governatore Progetta al Dicato. Perché questo dovrebbe dire la legge, la legge non è che qui, c'è nessun potere al presidente della regione di Chiari queste cose, perché la competenza e quindi il rapporto è copiare da lungo. Grazie a tutti.